Di nuovo ben tornati sul canale, è ancora sabato, ancora vigilia dell'inizio dei mondiali di Qatar e allora riavvolgiamo il nastro e analizziamo nello specifico la stagione dei calciatori dell'Inter e quindi entriamo nell'analisi e soprattutto facciamo i voti, le pagelle degli interisti fino a questo punto è vero, non è finita ancora l'andata del campionato, mancano ancora quattro partite però si è concluso il giugno di Champions con il passaggio di turno passaggio di turno che secondo molti è stato impronosticabile, era impronosticabile quasi data per spacciata l'Inter e invece andare a retrocedere in Europa League è stato il Barça e però con il mondiale di mezzo possiamo stilare un primo bilancio particolareggiato di quelle che sono state le prove, le prestazioni dei singoli anche qui prendetela sempre come una sorta di giochino per fornire spunti e non un qualcosa di definitivo anche perché restano come sempre le pagelle molto soggettive partiamo dai portieri, Cordaz senza voto, zero presenza, ha avuto anche un infortunio però da quello che mi dicono è un elemento molto molto importante per lo spogliatoio ed è un fattore questo mai mai da sottovalutare Andanovic, con Andanovic vi avviso sono stato piuttosto duro ero indeciso tra il 5 e il 4 alla fine ho detto vabbè facciamo 4 e mezzo 4 e mezzo Andanovic perché? perché le partite in cui ha dato quel qualcosa in più sono state veramente poche 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 ricordo così quella col Torino per il resto o normale amministrazione o soliti gol presi in maniera banale e quasi ectoplasmatica dunque 4 e mezzo 4 e mezzo Andanovic da contraltare il voto di Andreunana un bel 7 e mezzo 7 e mezzo che si giustifica e con le prestazioni in Champions League e con le prestazioni chiaramente anche in campionato non che il portiere camerunese abbia dovuto compiere chissà quali super mega interventi ha fatto belle parate ha preso anche diversi gol praticamente Michael per colpe sue qualche rischio qualche rischio è stato fortunato in un paio di circostanze ma il voto secondo me è alto perché uno non è facile prendere il posto di uno come Andanovic che a parte l'ultimo Andanovic è sempre stato un portiere non super top ma di estrema affidabilità due si è calato in realtà come quella nerazzurra dopo un lungo periodo di stop perché a parte qualche sporadica presenza l'anno scorso ma veniva da uno stop molto lungo e poi non è una realtà qualsiasi parliamo dell'Inter e quindi con grande personalità senza rinnegare quello che è il suo carattere e quelle che sono le sue caratteristiche quindi molto bene Onana molto bene Onana devo dire vado controcorrente per quanto riguarda Mina Skriniar visto tanti che hanno sorto il naso non è più lo Skriniar di qualche tempo fa si vede condizionato dal mercato si vede qui si vede lì io francamente ho visto tutto perché un giocatore è condizionato dal mercato ho visto degli errori non è stato uno Skriniar da 10 ma nemmeno uno Skriniar da 4 lì ho dato 6,5 perché? perché in tante partite ha qualche sbavatura ma ha tanti tanti duelli vinti tanta carica tanta adrenalina non ha mai fatto mancare il suo contributo di fisico di sostanza e di coraggio De Frey 5 5 era partito veramente male 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 non solo per colpe sue perché abbiamo capito in queste settimane di analisi più approfondita abbiamo capito che il problema dell'Inter a livello difensivo nasce da più lontano non è un discorso relativo solo a difensori in senso stretto e poi pian piano ha risalito la china soprattutto giocando due ottime gare contro il Barcellona nonostante un rinvio un po' un po' disordinato che ha causato poi il tiro di Lewandowski e l'autorete di fatto di bastoni in occasione del del 2 a 2 del Barcellona al Camp Nou però devo dire poi pian piano è risalito chiaramente la partenza ad handicap ne condiziona il voto quindi 5 5 De Frey 5 e mezzo bastoni anche lui un po' come come De Frey inizio in sordina sentato anche a livello fisico si vedeva non stava benissimo qualche problema di troppo qualche linea di febbre di troppo poi è risalito anche lui sfiorando di fatto la sufficienza 5 e mezzo insomma siamo lì molto bene invece a Cerbi molto bene invece a Cerbi soprattutto perché perché è arrivato in delle condizioni che non si augurano a nessuno gran parte della tifosa intervista non lo voleva vedere io stesso non lo consideravo un investimento da fare ho sempre salvato l'aspetto tecnico ammettendo che a Cerbi era comunque in parabola discendente ma come è normale che sia vista l'età però tecnicamente non avevo alcun dubbio sul giocatore c'era qualche dubbio sull'aspetto futuribile dell'investimento quello mi resta tuttora però sul rendimento non si può dire nulla bel 6 e mezzo per a Cerbi Di Marco 8 Di Marco devo dire che è sicuramente tra i migliori tra i migliori se non il migliore della stagione poi pian piano andremo a sviscerare tutta la rosa questa è la prima parte ci fermeremo ai difensori ed esterni poi domani faremo centrocampisti attaccanti Di Marco 8 la rivelazione rivelazione era partito come il braccetto di sinistra che anche lì devo dire non mi dispiace soprattutto quando l'Inter può comandare la partita diversamente quando l'Inter se la subisce non è propriamente il suo terreno di battaglia mentre a sinistra ha messo cattiveria ha messo contrasto aggiungendo queste caratteristiche alle sue qualità che già conoscevamo grande piede sinistro grande qualità grande tecnica è andata ad aggiungere è andata a inserire è andata a accumulare anche questo bagaglio di energie e di caratteristiche che lo rendono veramente un ottimo laterale a tutta fascia D'Ambrosio 6 pochi minuti qualche acciacco fisico ma quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto il suo come d'altronde ci ha abituato da quando veste la casacca nera azzurra 6 anche Danfries che ha alternato luci ed ombre grandi ho prove non si è mai risparmiato sempre un fattore positivo quando si tratta di andare a difendere davanti ottima volontà tempi di inserimento eccellenti però la qualità purtroppo lo sta un po' penalizzando perché secondo me meriterebbe un voto più alto però ci sono stati diversi errori non tanto nelle scelte ma nell'esecuzione quello lo penalizza comunque il 6 va salvato Gosens 5 e mezzo nonostante alcuni gol anche piuttosto pesanti quello al Campanò soprattutto ma non solo ma non solo devo dire che sta incontrando delle difficoltà forse nemmeno lui si aspettava ma d'altronde l'ha ammesso in una delle più recenti interviste ma secondo me il problema al di là dell'esplosione di rimarca è stato proprio quello di non rimettere subito minuti nelle gambe e avere continuità di impiego quando vieni da un lungo infortunio quindi 5 e mezzo Gosens 6 Bellanova perché non gli ho dato l'insufficienza perché anche se con qualche errore mi ho visto tanta buona volontà ho visto un piglio anche deciso contro avversari di elevatura come a Monaco di Baviera nonostante la gara non richiedesse grosso impegno psicologico vista la posta in palio praticamente nulla però devo dire che è stato bravo applicato anche quando nell'ultimo ingresso a Bergamo contro l'Atalanta nel momento più caldo della partita è anche un po' più difficile per l'Inter quindi 6 Bellanova chiudiamo con Darmian e Darmian gli do un bel 7 un 7 perché secondo me è il difensore in generale più sottovalutato a livello italiano in questa gestione mancini in cui sono stati convocati tanti tanti elementi magari è contento Inzaghi che se lo tiene da piano ma un Darmian farebbe molto comodo anche la nazionale e devo dire lo sposti a sinistra lo sposti a destra in fase difensiva in fase offensiva anche da braccetto anche da braccetto di difesa ha sempre stato una sicurezza ad avercene di Darmian ad avercene di Darmian fine prima parte del paggellone degli interisti questo a primo troncone di campionato a domani per la seconda parte un saluto di Darmian per la seconda parte di Darmian